Vengono così, le accuse, eh? Si fanno in questo modo, giusto? Tanto per fare campare un po' perare, per fare giustamente, comunque giustamente, sempre giustamente, un po' di propaganda. Oh, ma io non sto dicendo niente, per carità, però per addirittura andare a dire che deve intervenire la polizia e deve entrare dentro, deve entrare dentro, per farvi capire un attimo, eh, Palazzo Chigi, dentro gli uffici della Meloni. Scovate, controllate, non è possibile, sta mentendo sui conti, il Sud Italia, non sta andando così bene come dice lei, che mostri le carte, deve ancora parlare di San Giuliano, quando è che verrà fuori la verità su San Giuliano? Vogliamo la verità? Madonna santa, non c'hanno un'idea, non c'hanno una cazzo idea. YouTube, hai sentito per caso la parolaccia? No? Ma, meno male. Vabbè, se a voi, in alto di sempre di 100.000 iscritti, attivate qua sotto la campanella, di cuore grazie a ognuno di voi per ogni notifica del canale. Eh? Io riprendo appunto il discorso che ho fatto, ho già pubblicato un video in merito, cioè interviene la polizia, c'è anche uno short a polizia, la polizia. Io non capisco alcuni dell'opposizione che, sul serio, ma la cosa grave è che la gente segue alcuni deputati che invogliano appunto la gente a seguirli su queste puttanate. Non sono promeloni, sono centriste, e da centrista è una puttanata enorme! Ma come ti viene in mente a te, deputato, del Movimento 5 Stelle che ho sentito prima, o anche qualcuno, sempre il Movimento 5 Stelle, comunque che deve intervenire la polizia, entra dentro Palazzo Chigi. Ma secondo voi i conti ce li ha dentro i suoi uffici, ce li ha dentro Palazzo Chigi? Ma che cos'è sta cazzata? Interveni la polizia anche perché, ah, così vediamo un po' con Elon Musk davvero che cosa stanno facendo. Starlink, punto! Poi se ci sono altri affari, bene, è quasi trilionario, 270 milioni, miliardi di dollari di patrimonio, va là! E non è un segreto, ok? Si aggira ai 300, il primo nella storia, considerate Leonardo da Vinci, il giorno d'oggi, con dei vizietti. Ma chi è che non ha, appunto, dei peccati? Anche la Meloni, sicuramente. Ma, uè, non ci credo a quello che dice Meloni sul Sud Italia e mostri le carte, altrimenti deve venire la polizia, deve ancora testimoniare, parlare di boccia a San Giuliano e anche il crossetto. Ragazzi, ma tirate fuori un'idea, un progetto. Sud Italia faremmo noi così. Ci vuole tanto? Mi sembra proprio di sì, mi sembra.